buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv iniziamo insieme una nuova settimana ci avviciniamo sempre più verso le feste di natale ma ancora ci sono tante iniziative da svolgere e quindi per avvicinarsi con il migliore dei modi appunto alle festività natalizie oggi è lunedì lunedì 4 dicembre 2023 e abbiamo una santa che ci condizionerà un po tutta la giornata vediamo subito la grafica eccola è santa barbara una santa notissima patrona patrona dei pompieri degli artiglieri dei pirotecnici di tutti coloro che hanno a che fare con il fuoco che maneggiano il fuoco con il nome di santa barbara si indica anche il deposito di munizioni che c'è nelle caserme oppure nelle navi santa barbara è anche la protettrice dei marinai ebbene è una santa turca una santa che nata in turchia nicomedia nel terzo secolo ebbene fu martirizzata dal dallo stesso suo padre che molto molto feroce le tagliò la testa e poi fu ucciso subito dopo da un fulmine caduto dal cielo ecco perché appunto santa barbara è la protettrice di tutti coloro che usano il fuoco e allora passiamo alle previsioni del tempo dove non notiamo per fortuna nessun fulmine nessun cielo offuscato oggi le condizioni dovrebbero essere abbastanza accettabili infatti il tempo sulle marche è stabile e asciutto su tutta la regione con una nuvolosità irregolare più compatta nel pomeriggio le temperature massime si gireranno sui 10 12 gradi la minima è stata piuttosto bassa 3 gradi questa mattina i venti sulle coste spireranno con una tensione da sud e sudeste mentre nell'interno con una tensione più debole da est sudeste ugualmente e vediamo anche che il sole sorgerà tra breve alle 7 e 32 e tramonterà alle 16 e 27 e allora ci ho detto con le notizie dell'almanacco del giorno e delle previsioni atmosferiche apriamo il giornale anzi vediamo subito la prima pagina del resto del carlino che sintetizza un po le notizie di tutta la regione vediamo subito quelle di pesaro dove giurano i medici e per quanto riguarda l'incontro organizzato dall'ordine provinciale dei medici sono i giovani medici che iniziano una loro professione di cui c'è veramente tanto tanto bisogno infatti l'appello dell'ordine è non andate via la corata richiesta del numero uno dei camici bianchi il presidente battistini da tempo è aperto il dibattito sul futuro della professione sappiamo come poi l'organico carente dei medici è una delle necessità è una dei è uno costituisce uno dei problemi più importanti della sanità locale ma anche a livello nazionale vediamo ancora le notizie di pesaro vediamo che ci sono problemi post maltempo e di quelle grande vento furioso che è espirato nei giorni scorsi famiglie ancora oggi al buio a macchia di leopardo rabbia e proteste a fiorenzuola si è scoperchiato il tetto dell'ex palazzo comunale e questo ora deve essere completamente resta restaurato ad ancona ci sono proteste ad ancona ci sono proteste perché il centro storico non deve essere solo quello che è illuminato ma reclamano addobbi e decorazioni anche la periferia natale dei veleni la città brilla ma le frazioni insorgono nessun addobbo dalle nostre parti e poi si evidenzia una truffa una truffa sospetta per palestre c'è un blitz di striscia la notizia furti non mancano mai nelle cronache dei giornali rincasano e trovano la cassaforte svaliggiata con il frullino l'allarme sicurezza ma l'allarme sicurezza proviene anche da chiesa nuova di treia lo vediamo qua in provincia di macerata raffica di furti e allarme razziate quattro case in una manciata di ore a macerata il presidente di apm ricavi in aumento nelle farmacie comunali e poi a cività nova un lupo investito un volontario lo trova e lo salva lo porta appunto nel centro dove si curano gli animali selvatici e questo lupo poi potrà tornare libera aveva una gamba spezzata probabilmente lo scontro con una auto ascoli e affermo operata al naso muore con lei ho perso tutto lo sfogo del fidanzato di stefania camela di san benedetto del tronto è crollata davanti a me sospetta embolia aveva 47 anni giovanissima il rebus di monte palciano di monte pulciano innesca la guerra del vino in parlamento e il resto del carlino evoca il caso cordisco che chiama in causa il ministro l'olobrigida a porto san giorgio picchia un anziano per derubarlo ma il colpo sfuma ed è stato arrestato questa è un po' una panoramica di quello che accade e riportano i giornali oggi per quanto accaduto nel weekend e allora noi apriamo il giornale e approfondiamo le notizie sulla provincia di pesaro urbino guardiamo qui guardate qui lo stuolo dei medici che hanno giurato ieri nell'incontro organizzato dall'ordine provinciale dei medici presieduto da paolo battistini che lo vediamo in foto guardate questa foto tanti giovani che si apprestano ad iniziare questa faticosa impegnativa professione ma vediamo qui emblematicamente non c'entra nulla nella foto nella foto vedete qui sono dei posti vuoti ebbene emblematicamente questi dovrebbero essere coperti da tutti coloro che mancano nella sanità territoriale e c'è una grave carenza ecco perché magari molti servizi faticano a essere considerati funzionali sanità arrivano e rinforzi esercito di nuovi medici ma ora non ve ne andate e l'allarme del presidente battistini e l'assemblea dell'ordine tanti giovani decidono di lavorare all'estero e altri abbandonano il sistema pubblico perché vengono pagati poco e vanno a lavorare con i privati è un vero proprio grido d'allarme quello che ha sollevato battistini a proposito della fuga dei medici e sono infatti il 7 per cento i giovani della nostra provincia che hanno richiesto la certificazione di good standing necessaria per recarsi all'estero e che manifestano quindi la volontà di abbandonare il territorio e di trasferirsi e allora cambiamo notizie vediamo quello che è accaduto del dopo tempesta del garbino che è espirato veramente in modo molto furioso dopo il vento il blackout la rabbia del giorno dopo i miei genitori anziani al freddo e al buio ebbene un guasto della corrente causato appunto dal vento ancora non era stato riparato il disagio si è verificato in modo particolare a ponte valle dove delle case sono rimaste senza corrente elettrica c'erano anche degli anziani all'interno un esempio un figlio ha un padre di 90 anni che è allettato ieri sono dovuto andare a casa sua per assisterlo mia madre non a causa dell'età non ce la faceva tutto quello che c'era nel frigorifero è andato perduto nemmeno l'acqua calda sono per fortuna che c'era il gas quindi un pochino d'acqua si è potuta riscaldare ma il disagio continua e oltre a ponte valle altri disagi a borgo santa maria e poi al circolo baratov dove si è accusato un mezzo disastro due coperture montate il giorno prima dal del ventolone sono state completamente sradicate ed è partita anche in una tribunetta la copertura di una tribunetta appunto dei delle zone sportive strage anche per quanto riguarda pali della luce vediamo qui una fotografia significativa le lamiere dell'ex palazzo comunale di fiorenzuola strappate dal vento le forte raffiche hanno scoperchiato il tetto dell'ex palazzo comunale quindi sono stati veramente ingenti i danni che si sono provocati ieri mattina a tag hotel della zona industriale di bellocchi di fano si è svolto il congresso provinciale di forza italia ed è stata letta eletta per racclamazione segretaria provinciale elisabetta foschi forza italia incorona la foschi le sfide pesaro e fano anche forza italia vuole recitare un ruolo di primo piano per quanto riguarda le prossime elezioni amministrative e anche quelle europee quindi con un rapporto molto diretto con la dirigenza nazionale ebbene ieri oltre al ricordo immancabile di silvio berlusconi c'è stato anche un video di del segretario nazionale e tagliani e appunto che ha così dato la carica agli stimatori ai soci di forza italia per approntarsi al meglio ai prossimi impegni elettorali l'assessore della città ducale foschi eletta coordinatrice provinciale sono convinta che per urbino si andrà alla conferma del terzo mandato di gambini ha detto quindi lei ovviamente non si candida ma ha pronosticato anche un cambio di giunta per quanto riguarda fano e soprattutto auspica per pesaro che è il roccaforte della sinistra una cosa che questa volta elisabetta foschi considera possibile e poi ci sono stati tutti i delegati che sono stati nominati per far parte del direttivo del direttivo provinciale oltre a quelli del nazionale e i giornali riportano tutti i nomi questa mattina sono 22 quindi non sto a ripetervi ma li potete leggere tranquillamente acquistando il giornale vediamo anche qualche notizia che riguarda ancona di cui abbiamo già parlato il natale non luccica per tutti ci sono delle proteste per quanto riguarda la periferia fioccano le proteste frazioni senza addobbi anche al piano non mancano le critiche ignorati come per la notte bianca e c'è chi chiede di illuminare piazzale della libertà e l'ingresso del centro ebbene il piano san lazzaro sente proprio di essere trascurato per quanto riguarda le attività così come monte sicuro anche lui rivendica anche questa frazione rivendica più attenzione da parte degli organizzatori e poi parliamo di cronaca feste e furti ladri in azione svuotano una cassaforte una banda entrata in azione a colpo sicuro in una villetta con il frullino ha così avuto ragione della cassaforte la sradicata portando via oggetti preziosi e ricordi poi un'altra notizia di cronaca in un articolo di spalla coppia litiga e poi si picchia arrivano gli agenti e hanno bloccato l'uomo la polizia impegnata anche per un quarantenne che voleva farla finita questi sono un po gli episodi che si sono verificati nel weekend volevo anche segnalarvi questo articolo del lupo lo vediamo qui un'immagine del lupo accovacciato ferito ad una gamba investito e abbandonato soccorso un lupo ferito questa volta ci è voluto un po di coraggio da parte dei volontari per soccorrere questo animale lungo la strada provinciale delle vergini che collega il capoluogo alla città alta a circa 300 metri all'incrocio della celeste nei pressi di civita nova è stato appunto rinvenuto l'animale a scoprire la presenza è stato massimiliano frattini agente volontario e responsabile della sezione comunale del cst caccia sviluppo e territorio per fortuna un uomo che ha una sensibilità ambientale e che non è stato inerte ma ha subito avvisato le autorità e soprattutto i volontari per riuscire poi a catturare tra virgolette l'animale e prestargli il soccorso e quindi curarlo come dovrebbe essere soldi ai gioielli nel merino dei ladri quattro case colpite a chiesa nuova di treia indagano i carabinieri acquisite le immagini delle telecamere si cerca di far luce anche su questo nuovo furto e allora vediamo invece le notizie del Corriere Adriatico cominciando dalla pagina di Fano dove si parla diffusamente del congresso di Forza Italia eccolo qua Foschi è eletta per acclamazione Forza Italia nel territorio C ha voluto ribadire l'ex segretaria che fino a due minuti prima aveva ricoperto il ruolo di commissario il partito esce da un lungo commissariamento ecco tutti gli eletti del direttivo e sono veramente elencate tutte le persone comunque era da tempo che gli iscritti di Forza Italia non venivano chiamati ad un congresso provinciale l'opportunità quindi offerta dalla elezione del nuovo segretario ha ridato loro gli stiboli per riaccendere un po' di passione politica si erano ridotti qualche anno fa poche decine di iscritti ora gli iscritti sono 280 e circa una settantina erano presenti ieri appunto al congresso provinciale che hanno eletto battendo le mani segretaria o coordinatrice Elisabetta Foschi ora si impegna per un cambiamento politico negli enti locali e Forza Italia nella coalizione di centro-destra intende assumere un ruolo particolarmente importante di stimolo al cambiamento appunto di quei comuni che sono governati dal centro-sinistra c'è stato anche un incontro alla Rocca Malatestiana di Fano in merito alla Lega delle Cooperative per quanto riguarda il settore della cultura considerato asset di sviluppo per l'inizio di azioni innovative un evento organizzato da Culture Media e Lega Coop Marche alla Rocca Malatestiana per confrontarsi sulle potenzialità di sviluppo e di crescita sociale e economica legate al settore della cultura di tutta la provincia di Pesaro Albino che ha proprio questa opportunità eccezionale del capitale nazionale della cultura 2024 qua si parla invece in quest'altro articolo di valorizzazione turistica una opportunità che ha visto Fano eccellere lo ha visto a Brescia dove si sono svolte iniziative perché Brescia insieme a Bergamo sono capitali della cultura per il corrente anno e a Fano è stato riconosciuto il valore dei progetti legati all'applicazione multimediale quelli della CARD e del TOTEM che sono stati scelti come casi di studio per l'efficacia determinata nei confronti dei turisti e poi Fano è stato inserito nei dieci comuni dedicati all'Alleanza Strategica con la Francia in particolare con la Costa Azzurra questo è stato riconosciuto nell'ambito di un incontro che si è svolto addirittura nella sede del Senato a Roma dove era presente l'assessore Etienne Lucarelli Pioggia di fondi allo sport per quanto riguarda in tutta la provincia l'articolo è testato a Mondavio è una pioggia di 1,3 milioni di euro quindi 1.300.000 euro concessi dalla regione per gli impianti di dieci comuni più cinque tra Pesaro e Fano e diamo un'occhiata a questo articolo e vediamo quali sono i comuni e per cosa verranno utilizzati questi fondi ebbene i comuni sono il comune di Frontone 92.942 euro per lo stadio Orlandi Mondavio 100.000 euro per la palestra a San Michele al fiume Monte Calvo in Foglia 100.000 euro per il presso sportivo Caleo Pergola 58.000 euro per lo stadio comunale Pian di Mileto 100.000 euro per il campo via Sport Piobbico 59.000 per il campo da calcio a 5 Sant'Angelo Invado 100.000 euro per il centro sportivo di via Grifoni Sant'Ippolito 93.944 euro per i campi di via Raffaello Urbino 48.927 euro per il Palasporte e Cartoceto 70.000 euro per l'impianto Amati Molto soddisfatta tra le altre l'amministrazione comunale di Mondavio che andrà ad adeguare e riqualificare la palestra comunale ubicata in una zona sportiva che può vantare già due campi da calcio quindi sono veramente risorse importanti per il nostro territorio A Mondolfo migliora il servizio di guardia medica Dicembre quasi regolare il consigliere Mancini del Partito Democratico ringrazia l'azienda sanitaria territoriale e i cittadini attivi però insomma non basta perché poi la copertura non è completa A dicembre una turnazione migliorata anche se non completa rispetto al mese scorso appunto si assicura per appunto questa zona dell'entroterra E a questo punto diamo un'occhiata invece alle notizie pesaresi dove l'apertura è dedicata a Fiorenzuola Adesso il palazzo rischia di crollare si deve intervenire rabbia e proteste a Fiorenzuola la copertura provvisoria dell'ex palazzo comunale questa copertura risale a nove anni fa era provvisoria quindi era precaria ed è stata letteralmente spazzata via dal vento e vediamo qui il grosso buco che ha lasciato il tetto che non c'è più il fatto che sia volata via c'era anche della lamiera insomma non è che fosse un tetto molto stabile molto robusto quello che copriva provvisoriamente il palazzo quindi qua è tutto da rifare San Domenico partono i lavori tempi stretti, restauro e ne due anni questo bellissimo complesso del 1200 e ha subito poi tante trasformazioni nel corso dei secoli ora avrà un assetto moderno che però si intona con l'architettura antica quella medievale ebbene grazie ai fondi del PNRR a gennaio il comune apre il cantiere per il campus universitario e l'agora da storico luogo degradato del 200 a moderno contenitore per la capitale della cultura il San Domenico è del resto il primo complesso monumentale al quale il comune dà la partenza e lo pone in pole position per quanto riguarda i lavori che verranno realizzati a fine novembre il consorzio fra cooperative di produzione e lavoro con scope di Forlì ha stipulato il contratto d'appalto quindi si può cominciare tranquillamente c'è tanto spazio riverrà riproposto il mercato ma l'area centrale è destinata ad attività culturali eventi e spettacoli e poi abbiamo un altro blocco che verrà appunto fatto oggetto di lavori è il blocco di tre piani che guarda via Giordano Bruno dove troverà sede il campus universitario accanto ai locali per le lezioni accademiche è prevista un'aula magna di oltre mille metri quadrati quindi un grande complesso che verrà completamente ristrutturato ristabilizzato e quindi posto al servizio della città una sanità pubblica è attrattiva è l'unica soluzione praticabile secondo l'auspicio dell'ordine dei medici che appunto ieri ha svolto il suo incontro un momento importante per un confronto alla politica un momento di incontro non più rinviabile vista l'urgenza di cui la necessità territoriale ha bisogno per ripianare soprattutto la mancanza di personale e poi la riattivazione di tutti i servizi che a questo è collegato una sanità pubblica è attrattiva è un bel sogno da realizzare asilo nido spuntano 15 nuovi posti criteri più equi per le graduatorie ebbene un piccolo così spiro d'ossigeno in più per un settore che ha bisogno veramente di grandi polmoni per poter respirare vantaggi per i genitori che lavorano con l'obbligo della reperibilità è stato annunziato dall'assessore Camilla Murgia poi vediamo l'intervento dei vigili del fuoco siamo in conclusione fumo e fiamme sul tetto di una palazzina paura in un condominio della zona mare oltre tre ore di intervento per le squadre di soccorso tutti si sono messi in salvo è accaduto alle 19.25 in una palazzina di via Mario Pagani e appunto non si sa ancora quali sono le esatte cause ma si pensa ad un cortocircuito ebbene abbiamo dato una scorsa ai giornali non è esaustiva quindi mi raccomando di recarvi ugualmente in edicola per approfondire quando vi abbiamo annunciato e così terminiamo la nostra rassegna stampa vi do appuntamento alle notizie del giorno con il TG Occhio alla Notizia questa sera alle 20.30 condotto da Simona Zonghetti e come sempre poi la rassegna stampa di domani alle ore 7 grazie per l'ascolto e a risentirci grazie per l'ascolto e a risentirci